Deputato Borghi, 30 secondi. Sì, innanzitutto due secondi per complimenti al professor Pisauro perché oggettivamente c'è una sapienza nel destreggiarsi in regole assolutamente assurde che penso che un paese normale non debba avere inflitto, invece a noi ci tocca perché siamo dentro in questa strana cosa dove le regole... così, prevalgono sulla sostanza, però complimenti per riuscire a destreggiarsi in questa maniera. Due domande. La prima, relativo agli interventi sulle banche, io ho provato anche ieri con scarso successo avere qualche informazione ma magari lei mi può aiutare. Nello specifico, sul Monte dei Paschi di Siena, vedo che a pagina 33 che correttamente lei separa un miliardo e sei dato dalla differenza tra il prezzo di acquisto delle obbligazioni in termini di azioni e il prezzo di mercato. Ma essendo che la posta di possesso del Monte Paschi, almeno a governo vigente, è stata in tutti i modi considerata transitoria e penso che così purtroppo la voglia considerare anche l'Unione Europea, l'aspetto del mark to market, vale a dire la perdita potenziale che è derivante dal prezzo di mercato rispetto al prezzo d'acquisto sul Monte dei Paschi, è evidenziata da qualche parte oppure non c'è nel caso quanto sarebbe quantomeno a prezzi attuali, ecco, poi vabbè. E poi un'altra cosa, questo glielo chiedo come economista perché appunto per la stima che ho di lei, dato che ieri Padoan non mi ha saputo dire secondo lui cosa sono i moltiplicatori sia fiscali, cioè sia della spesa che fiscali, ha al momento per il nostro Paese tenuto presente che buona parte delle condizioni che normalmente la letteratura indica, come per esempio la presenza di tassi di interesse a zero, quindi esimilari, indicherebbero per alti moltiplicatori, mi piacerebbe sapere cosa ne pensa lei. Grazie, cedo la parola al professor Pisauro per le rettiche. Per quanto riguarda gli interventi nelle banche, la storia della minuzione, allora anche qui, ultima, poi una battuta sui moltiplicatori. La questione delle minusvalenze, lei mi dice sostanzialmente che c'è una minusvalenza sul monte dei Paschi di Siena, mi riferisco all'onorevole Borghi, no? E' questo il ragionamento che fa. Le do un'altra notizia sorprendente. Nella contabilità pubblica questa minusvalenza ai prezzi di mercato non si vede. Perché? Perché non si vede, perché si vede nello Stato patrimoniale, ma lo Stato patrimoniale è un documento di cui contenuto è oscuro ai più, no? Dal punto di vista però sostanziale, naturalmente quella minusvalenza nel momento in cui si manifestasse si vedrebbe, no? E non c'è nessun vincolo per il MEF di realizzare quella minusvalenza. E qual è il vincolo? Deve vendere il monte? Può farlo anche fra quattro anni, voglio dire, no? Ma no, potrebbe. Comunque, per quanto riguarda... Comunque, nella contabilità, nei conti, il conto che guardiamo per i saldi, la minusvalenza, non c'è. Impatterebbe sul debito nel momento in cui venisse realizzata. Questo è, diciamo, in sintesi. Per quanto riguarda la questione dei moltiplicatori, quanto sono i moltiplicatori adesso? Allora, in termini, diciamo, estremamente generali, chiaramente io ho l'impressione che siano ancora più alti di una fase normale, no? Questo, perché sicuramente erano più alti nel pieno della recessione. Lì si è sviluppata tutta una discussione anche accademica e anche, diciamo, di autocritica di alcuni organismi internazionali sul fatto che avevano, usando i moltiplicatori, l'articolo di Blanche Arley, no? Usando i moltiplicatori tradizionali, l'effetto recessivo di manovra e di correzione del disavanzo veniva in qualche misura, diciamo, trascurato, reso di scarsa entità trascurabile. Quindi, chiaramente, oggi cos'è cambiato? Non siamo più in una fase di recessione acuta, no? Siamo in una fase di ripresa. Rispetto a quello che dice lei, sarei portato a concordare sul fatto che, avendo ancora interessi a zero, siamo, probabilmente, sono ancora alti. Però, ecco, è un discorso più lungo. Bisognerebbe, però, ragionare su che cosa se una... Questo non significa che un aumento del disavanzo produce in modo permanente una riduzione del rapporto debito-pill. Questo è, diciamo... Bene, mi sembra più o meno di aver risposto. Grazie.